la madonna del divino amore tratto da i protetti della gran signora di paolo fantin durante la notte fra natale santo stefano del dicembre 1932 alle 4 suona ripetutamente il telefono 561 320 è il recapito del santuario a roma pronto chi parla luigi scusi c'è il rettore del santuario o il mio piccolo emiglio di dieci mesi gravemente ammalato di polmonite sembra che il suo caso sia irrimediabile per carità mi chiami il rettore e se posso venire a prendere qualche devozione del divino amore un po d'olio degli infermi ma il rettore a quest'ora è al divino amore se ha urgenza di queste devozioni vada anche subito e parlerà con il rettore grazie vado subito che fare così di notte ma il caso è grave la madre vedendo il bambino agonizzante sempre più prossimo alla morte piange angosciosamente il padre e tutta la famiglia non hanno pace va luigi dice la madre al marito corri al santuario della madonna del divino amore oh sì la madonna ce lo deve salvare l'abbiamo battezzato apposta al santuario perché lo protegga prega il madonna insieme al rettore portami qualche immaginetta ma l'olio non lo dimenticare via non tardare prendi l'olio benedetto addio angelo mio povero emigliuccio madonna mia fatemelo ritrovare guarito è ancora notte ma il rettore in un attimo è pronto padre emiglio è malato alla polmonite l'ha battezzato lei qui davanti a questo altare preghiamo nella notte la chiesa si illumina la vergine sorride il rettore e luigi pregano grazie madonna vergine del divino amore guarite il bambino malato il padre prende l'olio benedetto le immagini la medaglia della madonna e parte mi raccomando cavaliere dice il rettore nel congedarlo ritorni presto a ringraziare alla madonna per confessarsi e comunicarsi si padre non dubiti farò tutto ma preghi che la madonna mi faccia la grazia povero emigliuccio mio padre capisce il primo dopo otto anni di matrimonio no che non me lo tolga la madonna preghi padre a rivederla mi raccomando mi telefono oggi cavaliere mi tenga informato via si calmi non pianga più la madonna glielo guarirà abbia fede l'auto corre di nuovo veloce verso il moribondo emigliuccio il padre tace intanto intanto si asciuga le lacrime che non può frenare al santuario il rettore celebra la santa messa per il moribondo bambino vergine santa le dice da te sola attendono la grazia che venga o dolce madre fino a sera il telefono non comunica nessuna notizia a notte il rettore telefona ebbene padre risponde luigi sempre grave i medici disperano ma io no padre o la madonna me lo deve salvare coraggio buonanotte preghi padre mi raccomando il giorno dopo a mezzogiorno squilla il telefono del santuario padre dice a stento luigi si sente bene che piange corre ai piedi della madonna poi verrò io intanto la ringrazi lei all'improvviso è scomparsa la febbre ad emiglio sta bene ora ma che notte padre si inginocchi per me davanti la madonna o vede se me l'ha fatta la grazia dopo qualche giorno nella sagrestia del santuario luigi manteneva il suo voto piangeva di gioia emiglio a casa era del tutto guarito grazie 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 grazie